Qual è stato il primo traforo ferroviario alpino della storia? Il traforo del Freius. È una storia incredibile quella che andiamo a scoprire oggi, vedete, con un sacco di documenti originali e quindi io non posso che darvi il benvenuto e invitarvi a seguirmi in un viaggio veramente emozionante. Sigla! Il traforo del Freius è stato qualcosa di più di un semplice buco in una montagna. È stato davvero una delle più eclatanti imprese compiute dall'essere umano fino a quel momento. Non ci credete? Beh, oggi andremo a vedere come si è svolto questo immenso cantiere e perché era così importante. Beh, riavvolgiamo un attimo il nastro e torniamo a metà del XV secolo. Infatti, in quell'epoca, alla metà del Quattrocento, i marchesi di Saluzzo avevano già iniziato a scavare il primo traforo alpino. È infatti poco noto, ma sotto il Monviso c'è un tunnel, breve, realizzato a mano da minatori per conto del duca, del marchese, scusate, Ludovico II di Saluzzo, il quale voleva collegare il suo piccolo marchesato alla Francia. Nel Cinquecento un altro minatore riuscì a realizzare invece un'impresa molto più considerevole per convogliare l'acqua della Val Clarea alla Valle Susa e quindi permettere ai comuni di Chiomonte ed Exil di essere riforniti da una maggiore portata d'acqua. Quel minatore si chiamava Colombano Romean ed è stato effettivamente un eroe del suo tempo, perché voi scavereste un tunnel lungo centinaia di metri nel cuore della montagna armati solo di un piccone e con un cane che scende a valle ogni giorno per prendere un cestino di pane e viveri e ve lo riporta su per ogni mezzogiorno. Beh, credo che di fronte a una cosa del genere voi tutti direste che si tratta di un'impresa folle. E in effetti Colombano Romean è riuscito in un'impresa titanica da solo e ancora oggi il Gran Pertus, così si chiama questo tunnel nella montagna, è effettivamente uno dei più straordinari prodotti dell'ingegno e della fatica di una sola persona. Fatelo, magari attraversate la montagna quando in Val Clarea c'è poca acqua, quindi a fine estate, potete vedere all'interno del tunnel le incisioni fatte dal Romean, le nicchie per le candele, è insomma un qualcosa di spettacolare. Fatelo e fatelo naturalmente con le dovute precauzioni, con un elmetto, con delle torce, perché altrimenti, specie se l'acqua della Val Clarea è particolarmente impetuosa, ci sono seri rischi per la salute. E questo ve lo dico perché io l'ho fatto. Allora, torniamo a noi, torniamo al nostro tunnel del Freius, che dunque dopo gli esperimenti del Marchese di Saluzzo e delle comunità di Chiomonte d'Exil, appariva come il terzo grande traforo alpino della storia, perlomeno il primo fatto unicamente per la ferrovia. Ebbene, si tratta di qualcosa di unico, perché, capite, scavare a picconate la montagna è difficile, ma non ci devo far passare sotto un treno. Farlo per una necessità ferroviaria sicuramente è qualcosa di molto più faticoso, molto più significativo, qualcosa che ha fatto la storia. E per fare la storia noi dobbiamo recarci oggi a Bardonecchia, che è il comune più occidentale d'Italia, e dobbiamo farlo incontrando due personaggi straordinari. Si chiamavano Don Vaché, che era il parroco di Bardonecchia di allora, e Joseph Medaille, che era uno spedizioniere, una persona che faceva avanti e indietro da una parte all'altra della montagna. A proposito di Medaille, credo sia utile una brevissima nota biografica per approfondire la figura di questo personaggio visionario e decisamente geniale. Joseph Medaille nacque nel 1784 a Bardonecchia. Fu uno spedizioniere e un imprenditore, con sede a Lione, dove andò a vivere nel 1826 per un'impresa di lavori stradali. Le sue attività lo portarono spesso ad attraversare le Alpi, studiò come collegare meglio la valle di Susa a quella della Moriana per risparmiare tempo. Nel 1840 presentò il suo progetto a Re Carlo Alberto, ma fu considerato troppo innovativo per l'epoca. Morì nel 1844 senza vedere iniziati i lavori di quello che sarà il suo tunnel, il tunnel del Freius. Ci si può domandare perché uno spedizioniere come il nostro Medaille potesse avanzare delle idee così aveniristiche? Beh, effettivamente la domanda è lecita, ma dobbiamo tener conto che all'epoca c'era una formazione molto più ampia di quella che possiamo immaginare oggi. Infatti le persone non avevano una conoscenza così selettiva e a volte eccessivamente accademica come avviene oggi, ma avevano una conoscenza molto più ampia che spaziava su vari punti. Anche per questo il Medaille poteva conoscere diversi aspetti della scienza, della tecnica, e poi lui era nato in Valle Susa. Essendo nato in Valle Susa, aveva la possibilità di conoscere molto bene il territorio. Conoscendo bene il territorio poteva progettare il suo tunnel, indovinando esattamente il punto dove iniziare a scavare. E infatti la cosa incredibile è che Medaille e Don Vachet, che lo aiutò all'inizio, avevano indovinato l'esatto punto di inizio dello scavo e l'esatto punto di fine, cioè l'attuale punto di inizio in Italia e il punto di fine in Francia. La genialità dei due permise la stesura di un primo progetto che fu sottoposto a re Carlo Alberto nel 1841. Il Medaille si recò a corte, fu accolto da Carlo Alberto in persona, il quale lo ricevette una domenica dopo messa e gli concedette ben due ore di colloquio. Questo colloquio di due ore ha fatto la storia, si può dire, ma teniamo conto che Carlo Alberto era una persona molto sbrigativa. Lui non concedeva più di qualche minuto di colloquio. Il fatto che gli abbia concesso una domenica e due ore direi che dà l'idea dell'interesse assoluto che Carlo Alberto nutriva per progetti di questo genere. Quindi è falso ciò che trovate anche in rete, ad esempio su Wikipedia, dove si dice che Carlo Alberto si disinteressò del progetto del Medaille. È falso. La verità è che Carlo Alberto si interessò assolutamente del progetto di Medaille, lo fece sottoporre a una serie di perizie per osservare che fosse davvero coerente con il territorio, con la possibilità anche economica di realizzare un traforo di questo tipo. Carlo Alberto, teniamo conto che era un appassionato di scienza, aveva proprio un amore quasi, possiamo dire, infantile per la scienza, perché si interessava di tutto quello che era le novità della tecnica, del progresso e quando capitava uno scienziato magari di fama internazionale a Torino come Charles Babbage, lui lo invitò per presentare le sue tecniche anche a Palazzo Reale. Babbage è stato niente meno che il papà del computer e rimase a Torino per più giorni, poteva anche visitare alcune regge sabaude, sempre invitato da Carlo Alberto, il quale lo fece anche presentare alla corte e gli fece tenere delle lezioni, pensate, brevi lezioni, per Vittorio Emanuele II, futuro Vittorio Emanuele II. Quindi Carlo Alberto aveva una grande interesse per la tecnica, per il progresso, però aveva anche un estremo bisogno di denaro, era una persona molto concreta e capiva che senza Lilleri non si lallera, come direbbe qualcuno. Per cui era impossibile realizzare un traforo di questo tipo che sarebbe costato un capitale ed era impossibile farlo con i mezzi di allora. Sì, perché è vero, Medaille aveva inventato il corretto tracciato, ma non aveva presentato la soluzione evidente ai problemi tecnici, cioè come realizzare fisicamente un traforo di questo tipo. Poiché Medaille non aveva risolto i problemi tecnici, questi persistevano ed è per questo motivo che Carlo Alberto non procedette con l'avanzamento dei lavori. Va anche detto che poi ci fu una piccola sfortuna, cioè la prima guerra di indipendenza, che convogliò soldi, energie, interessi, verso le sfortunate sorti della prima guerra di indipendenza e poi con la caduta del re e il suo esilio in Portogallo. Quindi nel 1848-49 l'intero progetto venne sospeso, ma se ne riparlò subito dopo, anche perché erano emersi una serie di nuovi progetti, almeno tecnici che potevano risolvere quelle che erano le peculiarità tecniche, cioè tutti gli problemi che Medaille non era stato in grado di risolvere, ecco che iniziavano ad essere risolti. Il primo a proporre una soluzione fu Henri Mauss, un ingegnere belga, il quale propose una macchina molto particolare che doveva scalpellare la montagna, una sorta di macchina che faceva il lavoro di mille scalpellini. E fu testata questa macchina nelle officine di Valdocco, ma si trovò essere inefficace, perlomeno efficace nel breve momento, ma poi si smontava facilmente ed era difficile riuscire a trovare dei pezzi di ricambio, oltre al fatto che hai voglia a realizzare 12 chilometri di tunnel con una macchina di questo tipo. Quindi il progetto di Mauss fu accantonato, ma non fu accantonata la sua preziosa figura che rimase come consulente. D'altronde Mauss era arrivato praticamente al limite di vedere approvato il suo progetto. Un progetto ambizioso che fu discusso in Parlamento, ma appunto il Parlamento, lo accantonò dopo essersi accorto, essersi accorti parlamentari, che non si poteva iscrivere a bilancio un progetto di questo tipo, in quanto la soluzione tecnica era effettivamente molto precaria. Di Henry Mauss abbiamo qui questo che è il suo progetto. Qui ci sono tutte le pagine che contengono il suo progetto, le sue soluzioni tecniche e anche questa bellissima mappa pieghevole nella quale si trovano tutte le strade ferrate d'Europa, sia quelle realizzate, sia quelle che verranno realizzate, quindi in progetto. Alcune non verranno mai costruite, ma è incredibile vedere la lungimiranza di allora e scoprire come la costruzione di un tunnel sotto le Alpi non fosse un'idea balsana venuta dai montanari, ma rientrassi in un progetto molto più ampio, il progetto di collegare il Piemonte all'Europa, creando addirittura una rete ferroviaria che potesse, secondo le idee di allora, collegare la Francia con Odessa, allora in Russia, passando anche dal Piemonte sotto le Alpi, che era la soluzione più facile. Teniamo anche conto che questo tipo di soluzione permetteva il collegamento rapido della Francia, del nord, con Genova e questo era molto importante, soprattutto per gli inglesi, i quali avevano Genova come loro base principale nel Mediterraneo occidentale e che facevano di Genova un po' il loro scalo anche per le missive, per la corrispondenza, anzi soprattutto per la corrispondenza. C'era una sorta di via della seta dell'Ottocento che gli inglesi chiamavano la valigia delle Indie, che partiva dall'Inghilterra e che arrivava in India, passando per la Francia e per Genova. Prima bisognava scavallare le montagne in maniera un po' rocambolesca, adesso, almeno da progetto, si poteva passare sotto le montagne e questo sicuramente agli inglesi faceva molto comodo. Se vi state domandando se il Piemonte contattò il governo di sua maestra britannica per realizzare questo progetto, la risposta è sì, e a farlo fu niente meno che Cavour, il quale si indebitò fino al collo con le banche inglesi per poter finanziare questo ed altri progetti, perché ad ereditare l'idea originaria del Medaille fu il ministro Paleocapa, ministro dei trasporti del regno, e poi Cavour, che faceva da tutto fare e che aveva ben inteso come solo con i treni si sarebbe potuto sviluppare il Piemonte facendolo diventare una nazione europea di primaria importanza, solo con i treni. Ed effettivamente l'azione del Cavour fu dirompente. Cavour agiva in questo modo. Aveva inventato un sistema particolarmente efficace per finanziare le ferrovie. Di fatto il governo piemontese si sarebbe impegnato a pagare di tasca sua la rete principale delle ferrovie, ma tutti i rami laterali che collegavano i comuni minori, quelli venivano dati in appalto a delle imprese che le avrebbero finanziate in maniera privata, con i loro fondi. Tutto questo permetteva di velocizzare il lavoro, tant'è che il Piemonte, che praticamente non aveva linee ferroviarie, nel giro di pochissimi anni arrivò ad essere la prima nazione in Italia per numero di chilometri di strade ferrate e una delle nazioni con il maggior numero di strade ferrate in rapporto alla superficie. Certo, va ricordato che la prima tratta ferroviaria in Italia fu la famosa linea Napoli-Portici, e questo lo dico specialmente per gli amici di Napoli. Ma va anche detto che la linea Napoli-Portici era una sorta di tram dell'epoca, molto corto, di 7-8 chilometri se non ricordo male, ed era ad uso e consumo di poche persone, prevalentemente delle persone che utilizzavano questo mezzo come un diversivo, come fosse una promenade figlia della tecnica e del progresso. Diverso è il caso delle strade ferrate piemontesi che erano pensate prevalentemente per il trasporto delle merci, tant'è pensate che la prima stazione ferroviaria di Torino fu la stazione Dora, che oggi non esiste neanche più, è stata demolita qualche anno fa per fare il posto ai lavori del passante ferroviario. Ebbene, la stazione Dora fu costruita prima delle stazioni passeggeri di Porta Susa e Porta Nuova, proprio perché c'era bisogno di un luogo di smistaggio delle merci e a fianco alla stazione Dora c'erano i docks, cioè i magazzini, proprio per poter mettere le merci e stoccarle direttamente sui treni. Per realizzare il traforo del Frejus fu necessario l'intervento di tre ingegneri del regno di Sardegna. Grandis, Grattoni e Sommelier, una triade molto importante ricordata a Torino dal monumento di piazza Statuto che riuscì a progettare un sistema ad aria compressa per scavare il tunnel del Frejus. In questa maniera si sarebbe risolto il problema tecnico e i lavori sarebbero potuti procedere con una relativa sicurezza e velocità, anche se per pochi metri al giorno, ma già considerevole. Teniamo conto che i lavori iniziarono nel 1857 e finirono nel 1871. Per farvi capire l'importanza strategica di questi lavori, pensate che a inaugurarli prima dal fronte francese e poi sul fronte italiano, fu il re che si recò apposta sul Valle della Moriana per inaugurare i lavori, insieme a Cavour ovviamente, e fu data ampia eco a questo cantiere, presentato proprio come uno dei più importanti cantieri presenti in quel momento in Europa, cioè nel mondo. Un prodigio della tecnica e tutto interno al regno di Sardegna, perché ricordiamo che all'epoca non c'era la frontiera, la Savoia era parte integrante del regno di Sardegna. Ma durante i cantiere avvenne un fatto singolare, cioè il trattato di Torino del 1860 garantì alla Francia la provincia della Savoia, oltre alla contea di Nizza. E quindi durante gli stessi lavori ci si trovò a dover trattare con il governo francese per il proseguimento degli stessi e per la ripartizione dei costi. Sta di fatto però che il grosso del cantiere fu sostenuto dagli italiani e quasi tutto fu figlio della tecnica e dell'industria esclusivamente non solo dei piemontesi ma direi dei valligiani della Valle Susa. E qui la riflessione è abbastanza curiosa. All'epoca si voleva effettivamente la TAV, chiamiamola TAV, cioè si voleva bucare la montagna per fare una galleria ferroviaria e collegare la valle al resto d'Europa. È una cosa singolare. Oggi forse i Valsusini la penserebbero in modo diverso. All'epoca invece ci fu un ampio concerto per non solo collegare con il traforo del Freius ma fare prima. Anche questo va tenuto in considerazione perché il traforo poteva durare molti anni ma c'era bisogno subito dei collegamenti con la Francia e con l'Europa. E quindi gli inglesi, sempre per il discorso della valigia delle Indie, impegnarono delle loro compagnie per realizzare una mirabolante ferrovia che non passasse sotto le Alpi ma passasse sopra. Anche per evitare possibili ritardi e magari scommettere contro il cantiere. Magari potevano avvenire dei problemi, dei crolli, insomma delle criticità non previste. Ebbene gli inglesi realizzarono una ferrovia che passasse sopra il Moncenisio utilizzando la strada napoleonica e quindi con una cremagliera scavallasse la montagna e andasse giù dall'altra parte. Una ferrovia prodigiosa detta la ferrovia Fell dal nome dell'ingegnere che la curò. La ferrovia Fell appare in molte stampe di allora, anche in maniera caricaturale, perché ci si rese conto subito delle criticità di questo tipo di soluzione. D'inverno non si poteva procedere, la neve era eccessiva. In più c'era il problema dei freni, i convogli spesso si bloccavano, faceva un gran freddo e alla fine furono tutti contenti di smantellare la ferrovia Fell, nonostante la sua verve avveniristica, non appena il traforo del Freius fu concluso nel novembre 1871. Fu un evento incredibile, la città di Torino fu parata a festa, come potete vedere dalle immagini, fu una vera e propria festa nazionale che segnava il prodigio della tecnica, dell'industria, di una piccola nazione, grande nazione, diventata l'Italia e che dimostrava la bontà di un'idea originale, quasi assurda, pensata anni prima da un montanaro, da un parroco di montagna e da una piccola comunità, quella di Bardonecchia, che si impegnò tenacemente per la realizzazione di questo progetto. Un progetto che possiamo dire essere stato il più grande progetto tecnico realizzato in Italia, fino a quel momento anche che per molti anni fu celebrato come un grande progetto dell'italianità, un qualcosa di cui essere fieri. E se da qualche parte trovate una via, una piazza, un monumento dedicato al Freius, beh, state pur sicuri che non si tratta solo di un traforo di una montagna, ma si tratta dell'epopea di tanti uomini che hanno sofferto, perorato e ottenuto ciò che volevano, utilizzando tutte le loro energie, tutto il loro ingegno e tutta la loro capacità di utilizzare i mezzi della tecnica per celebrare la gloria di una nazione, dell'Italia. Il Freius è sicuramente un momento centrale del nostro risorgimento, il risorgimento della tecnica. E io sono convinto che con questo mio piccolo intervento anche voi vi state appassionati a questo grande progetto che sicuramente ha fatto le sorti dell'Italia forse molto più di quello che potevamo immaginare. E' giunto il momento di leggere anche volta qualcosa e io traggo la mia lettura della puntata da questo volume, Il traforo del Freius, di Edoardo Barraia, edito per i 50 anni dall'avvenimento del traforo del Freius, quindi nel cinquantenario. E qui andiamo a leggere un Natale memorando, cioè proprio la narrazione di come avvenne la fine del cantiere e quindi come le due squadre di operai si ricongiunsero. E finalmente il 25 dicembre del 1870, giorno di Natale, verso le ore 16 e mezzo, lo scandaglio penetrò liberamente nella parte opposta, dividendo fra le due parti il tramezzo di 4 metri che ancora rimaneva. L'incontro sarebbe avvenuto a metri 7.089,25 dalla bocca meridionale ed a metri 5.153,30 dalla bocca settentrionale, così in tutto metri 12.242, lunghezza complessiva del traforo rettilineo. La lunghezza, calcolata, venne superata in fatto di pochi metri, nessun errore risultò nell'incontro dell'asse centrale della galleria. Quindi loro realizzarono, come sappiamo, una galleria che si congiunse perfettamente da una parte e dall'altra. Questo fu un grande prodigio, un momento di grande festa. Andiamo avanti a leggere. Profonda fu la commozione degli uomini che al Freius avevano dato la parte più bella dell'ingegno della vita, nel veder compensata dall'esito magnifico la lunga fatica sostenuta. Pareva temerità cotesta e molti dubitavano di un incontro nel quale il minomo sbaglio di direzione sarebbe stato fatale alla riuscita dell'impresa, ma la scienza, per mezzo delle sue triangolazioni, aveva saputo guidare con precisione assoluta quel lavoro di talpe intelligenti. E l'incontro ebbe luogo al centimetro, con esattezza meravigliosa. Dopo la trepidazione venne il trionfo e fu immenso. L'invidia degli avversari, in tanti e siniqui modi affermata, si trasformò in ossequio e anche dall'estero si inneggiò agli apostoli della gloriosa fatica che tanto lustro recarono al nome italiano. Mercell, fecondo accordo della scienza e del lavoro, un'opera che solo pochi anni innanzi doveva si ritenere materialmente impossibile, secondo lo stesso parere dei migliori uomini dell'arte, è condotta ora a buon termine, senza che intorno ad essa una speranza di legui né un calcolo fallisca. Vinta la montagna, tosto il telegrafo trasmetteva la grande notizia. Scoccavano le cinque al palazzo di città in Torino, quando giungeva da Bardonecchia il dispaccio che recava la buona novella. Dal fondo della galleria all'ingegnere sommelier a Torino. In questo momento, ore 4 e 25 minuti, la sonda passa attraverso l'ultimo diaframma di quattro metri esattamente sul mezzo. Ci parliamo da una parte all'altra. Il primo grido ripetuto dalle due parti fu VIVA L'ITALIA! Venite domani. Firmato Grattoni. Bene, io spero che questo piccolo intervento sul traforo del Frejus vi sia piaciuto. Mi raccomando attivate la campanella perché vi arriveranno le notifiche alla velocità proprio di un treno dell'Ottocento su tutte le novità del nostro canale. Io non posso che salutarvi, vi saluto come sempre alla mia maniera. C'erré a tutti, monsù! Arvatsè!